Ciao ragazzi, diteci chi siete. Ciao, sono Paolo e ho 27 anni. Sono Elisa e ho 21 anni. Bene, partiamo con le domande. Elisa, iniziamo da te. Quella in Albania è stata la tua prima emergenza? Sì, è stato il primo sismo a cui ho partecipato. E invece per te, Paolo? Per quanto riguarda i rischi da remoti, sì, è stata la mia prima emergenza. Perché avete voluto partecipare? Perché la mia passione è mettermi al servizio di chi ha bisogno. Era il giorno del mio compleanno e mentre preparavo la torta è arrivato il messaggio dal nostro presidente che ci chiedeva l'immediata partenza per Durazzo. Lì per lì ho deciso di andare ad aiutare chi aveva perso tutto in quel momento. E avete avuto paura? Sì, siamo partiti con la consapevolezza che comunque ci aspettavo qualcosa di brutto. Però arrivati lì, vedere quelle persone che avevano bisogno di noi ci ha dato carica. Inizialmente sì, come è normale che ci sia, però una volta arrivato sul campo l'adrenalina mi ha fatto passare la paura facendomi concentrare poi sul ruolo che dovevo ricoprire nel campo. Qual è stato il vostro ruolo nell'emergenza? Essendo arrivati per primi come colonna mobile regionale, il nostro ruolo era quello di montare le tende per il campo che poi avrebbe accolto gli sfollati. Il mio ruolo in particolare è stato quello della logistica. Il mio ruolo è stato quello della logistica. Io insieme ad altri volontari siamo arrivati di notte con l'elicottero e abbiamo cominciato a montare le tende per il campo di Durazzo. Come vi sentite ad essere stati vicino e ad aver assistito persone che hanno perso tutto? All'inizio felice perché sapevamo che stavamo dando un po' di speranza a chi aveva perso tutto. Dall'altra parte però un po' di tristezza perché vedevamo famiglie intere che avevano bambini con loro e si riparavano nei bar o nelle macchine. Sono molto soddisfatto di essere stato vicino alla gente che comunque aveva bisogno. Ma al tempo stesso ho provato molta tristezza nel vedere la loro sofferenza e vedere tutta questa gente che aveva perso tutto nella sua vita. Avete avuto modo di parlare con dei cittadini colpiti dal terremoto? E se sì, cosa vi hanno detto e qual era il loro stato d'animo? Parlare con loro era un po' difficoltoso in quanto parlavamo lingue diverse. Però da quello che mi hanno fatto capire ho visto in loro molta voglia di andare avanti e di riprendere la propria vita. Parlare direttamente con loro? No. Però quello che ci hanno trasmesso è che avevano voglia di andare avanti e vedevamo nei loro occhi tanta speranza. Quale messaggio vorreste trasmettere ai vostri coetanei? Quello che mi sento di trasmettere è che con poco si può vivere lo stesso. Vorrei spronare ai miei coetanei e informarsi di più sui rischi del proprio territorio in modo tale da acquisire le nozioni per prevenirli. Cosa avete portato con voi da questa esperienza? Ho portato sicuramente la consapevolezza di informarsi di più su come prevenire i rischi e sicuramente la forza che ci vuole per superarli. Quest'esperienza mi ha maturato tantissimo, ma non solo. Ho portato anche i ricordi con me. I bambini che cantavano la canzone Lino d'Italia per ringraziarci e le persone che non smettevano mai di accoglierci in modo gentile e offrirci quel poco che potevano.